Docker per Python, come creare un'immagine. Ciao, io sono Michele e in questo video vediamo come creare un'immagine Docker per un'applicazione web Python. Quello che andremo a fare è creare una piccolissima applicazione web con Flask di Python e poi creare un Dockerfile per la definizione dell'immagine Docker e quindi farne una build, pubblicarla e poterla utilizzare in qualunque ambiente supporti un'immagine Docker. Per seguire il tutorial di questo video avrai bisogno di Visual Studio Code, di Python 3 installato e ovviamente di Docker. Io utilizzo Docker Desktop. Se vuoi saperne di più su che cos'è Docker, le basi, come funziona e che tipo di tecnologia è, ti metto un link in descrizione a un mio video dove spiego tutto quanto. Allora, sono dentro Visual Studio Code in una cartella vuota chiamata P per Python, creo il file per la mia applicazione app.py. Quindi la prima cosa che vado a fare è l'applicazione web. Utilizzerò frask, from flask import flask, app uguale flask, questo è github copilot che mi suggerisce le righe di codice, mi va benissimo, def voglio fare un low word, molto bene, if name main, up run, però gli dico host uguale 0.0.0.0, così sta in attesa su tutti gli IP, su tutte le porte, no, la porta di default è quella 5000, infatti poi ci arriveremo. Benissimo, quindi qua vado ad importare la libreria frask per creare applicazioni web, definisco un metodo che mi restituisce hello world e sono a posto, avvio l'applicazione che mi dovrebbe stampare hello world non appena visito la pagina web. La provo facendo clic destro run python file in terminal che ho disponibile perché ho installato l'applicazione, l'estensione di python per visual studio code oppure potrei fare new terminal qui e scrivo python app.p. A questo punto abbiamo un avviso che ci dice va bene questo è un server di sviluppo, non è di produzione, ma a noi in questo momento non importa, apro facendo control click il browser, anzi copio e incollo qui l'indirizzo su questo browser pulito ed ecco che vediamo che la pagina viene servita e abbiamo hello world qui subito. Bene, a questo punto ho la mia applicazione web, in questo caso è semplicissima, è composta di un solo file ma ce l'ho e funziona. Una cosa che devo fare è specificare il file requirements.txt che mi servirà poi quando vado a creare l'immagine per specificare cosa avviene, le librerie da scaricare ed essere sicuro che l'immagine che io vado a produrre abbia le librerie che servono alla mia applicazione, in questo caso per esempio Flask e quindi vado a dire che io ho bisogno di Flask versione per esempio 2.2.2. Questo poi vediamo come si incastra durante, lo vediamo tra pochissimo, la produzione della mia immagine docker, che andiamo immediatamente a fare con un docker file perché sappiamo che per creare e compilare un'immagine docker ho bisogno di un docker file, cioè la ricetta che al suo interno contiene le specifiche di come deve essere fatta l'immagine per la mia applicazione. Allora la mia immagine faccio partire dall'immagine ufficiale quindi di python versione 3.7, quindi un bel from python 3.7, poi vado a mettere la working directory in app, quindi dentro il container, vado a impostare che tutti i miei comandi agiranno sulla cartella barra app. A questo punto copio tutto il contenuto della mia cartella, questa, questa qui, ne copio tutto il contenuto dentro, quindi il punto significa la cartella dove il comando docker build, il contesto corrente che sarà la cartella dove io eseguo docker build, lo prendo tutto e lo copio nella cartella barra app del container che io ho appena dichiarato qui sopra. Dopodiché eseguo il comando pip install meno r requirements punto txt e vediamo qui che si incastra il file che abbiamo creato poco fa, cioè vado a prendere il package manager di python e dire di installare tutte le librerie che vengono specificate dentro il file requirements punto txt. Questo viene fatto contestualmente all'interno durante la build, durante la costruzione della mia immagine. In questa maniera io sono sicuro al 100% che nella mia immagine ci sono le librerie di cui la mia applicazione ha bisogno. La mia applicazione ce l'ho appunto appena messa. Che cosa faccio? Faccio, alla fine eseguo la mia applicazione, quindi python app punto p che è esattamente il mio file. Questo comando è sensibile diciamo al cartella workdir, quindi verrà eseguito dentro barra app, eseguo python app p che è la stessa cosa che posso fare qui, python app punto p e la mia applicazione parte. Esattamente questa cosa verrà fatta dentro il container quando verrà istanziato dal motore docker. Benissimo, il docker file ce l'abbiamo, il requirement ce l'abbiamo, abbiamo la nostra applicazione. L'unica cosa che rimane è escludere dalla copia, è una sottigliezza ma la facciamo comunque. Qui quando io prendo, faccio questa cosa qui, vado a prendermi tutto il contenuto della mia cartella p e la porto dentro il container. Portarsi dentro il file docker file non ha senso, me lo voglio escludere, quindi faccio un file che si chiama punto docker ignore e vado a dire di escludere il file che si chiama docker file. Questo file docker ignore viene consultato dall'engine che crea la nostra immagine e esclude dalla copia, proprio non li vede, i file che rispettano, che vengono elencati qui dentro o che rispettano determinate regole di sintassi. A questo punto io salvo, il file è salvato e cosa posso fare? Pulire qui sotto innanzitutto e vediamo i comandi. Un altro plugin, un'altra estensione che io consiglio di installare in questo caso è l'estensione di docker per viso studio code che contiene tantissime utilità nell'interfaccia grafica, però io vado in questo caso a comando così vediamo bene quello che succede. Ritorno qui. Voglio compilare la mia immagine, quindi docker build, ok, meno t, qui ho già dei suggerimenti da delle prove, ed ho il nome, quindi il tag, meno t sta per tag, alla mia immagine che vado a creare. Quindi in questo caso Fenixita che sono io, al nome del mio repository, addirittura al nome del mio repository su docker hub, perché potrei prendere questa immagine e pubblicarla, e la chiamo python101, vuol dire video di base, due punti latest, ultima versione. Faccio il docker build, ho dimenticato un argomento, cioè il punto, cioè la cartella di contesto, io vado a fare docker build meno t, Fenixita, eccetera, e gli dico che come riferimento ho la cartella corrente, cioè la mia p dove ho i file e tutto quanto. A questo punto la build dell'immagine viene eseguita, abbiamo visto dei comandi passare, era il pip install che stava andando all'interno del container, ok, quindi che cosa è stato fatto? Viene utilizzata l'immagine di base python 3.7, vengono copiati, lo vediamo qui, ok, viene usata l'immagine di base 3.7, vengono copiati i file e poi è eseguito pip install e alla fine l'immagine è creata. A questo punto lo posso vedere che ce l'ho in locale, lo vediamo dal, da qui, vado su docker, vedo nell'immagine locale, Fenixita python101 è quella creata pochi secondi fa, ok, lo posso anche vedere con docker images e vedo in locale tutte le immagini che ho e di sicuro, facciamo un sls python, ok, c'è la mia immagine python101 che è quella che ho creato poco fa. A questo punto sono pronto per eseguirla e vediamo docker run-d, ve lo faccio in modalità detached, quindi non resto il container, va, esegue per conto suo, non entro nella sessione, meno p, espongo la porta 5000 del mio pc che si mappa sulla 5000 del container perché di default Flask apre la porta 5000, mi si mette in ascolto sulla porta 5000, Fenixita abbiamo detto python101, il latest in questo caso non mi serve. Il container parte, lo vediamo anche qui è partito, lo vediamo la sua esecuzione con il plugin di Visual Studio, a questo punto posso aprire un browser, faccio F5 e vediamo che l'applicazione risponde. Per vedere che è proprio il container che mi serve la mia applicazione web lo uccido, faccio un... mi prendo i primi tre caratteri qui e faccio docker stop 98d4, il container adesso si dovrebbe fermare, forza, non è poi così difficile fermare un container, si è fermato, vediamo anche lo stop, a questo punto faccio F5, qui comincia a srotellare e mi dice impossibile raggiungere questa pagina. Docker rm container, lo butto via, è completamente scomparso. Ecco che abbiamo completato il nostro tutorial. Per oggi con python e docker ci fermiamo qui, metto i 3-4 file che abbiamo creato durante questo tutorial disponibili su github pubblicamente con link in descrizione. Adesso l'immagine è disponibile e io potrei per esempio prenderla e pubblicarla su docker hub per renderla disponibile a terzi o magari a me stesso o a processi automatizzati che mi permetterebbero l'installazione automatizzata della mia applicazione su servizi di hosting o su qualunque server che sia in grado di erogare applicazioni in formato docker. Per esempio potrei utilizzare azure pipeline e azure web app oppure github action e di nuovo azure web app o qualunque altro servizio di hosting che sia appunto compatibile. Questo ovviamente arriverà in prossimi video, fatemi sapere se vi interessa. Se questo video ti è piaciuto o hai imparato qualcosa, metti un mi piace per stare notificato sui nuovi aggiornamenti. Alla prossima!